Stai cercando semplicemente un lavoro o vorresti costruirti una carriera in un settore che ha sempre superato qualsiasi periodo difficile sul mercato? Trading Casa è alla ricerca di tre nuovi agenti da inserire all'interno del proprio team. Cosa ti offriamo? Intanto un compenso fisso mensile per supportarti nel tuo sviluppo professionale e nel frattempo avrai accesso ad una formazione di altissimo livello per imparare ad applicare il nostro metodo che nel 2020 ci ha aiutato ad aumentare i nostri fatturati superando le 140 vendite. Ma non finisce qui! Oltre a tutto questo accederai sin da subito ad un piano di carriera con bonus produzione trimestrali e annuali per aiutarti non solo ad avere una semplice certezza mensile ma per avere la possibilità di guadagnare tutto ciò che vuoi in base ai tuoi risultati. Ci stai ancora pensando? Clicca il tasto qui sotto e richiede un incontro conoscitivo con Trading Casa e scoprire se puoi accedere alla carriera immobiliare. Ti aspetto! Grazie! 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 Grazie!